Buon pomeriggio a tutti, non siamo numerosissimi oggi, questa cosa non piacerà a Piero Angela che saluto, che ci segue in streaming, ciao Piero, abbiamo qualche vuoto perché qui al Politecnico ci sono gli esami, gli esami hanno temo la precedenza, comunque insomma lo streaming permetterà di recuperare anche questo incontro che io considero molto interessante per tutti perché è un incontro dedicato alla capacità di innovare, alla capacità di inventare soluzioni per lo sviluppo e di questo c'è un grandissimo bisogno. Incominceremo con Massimo Sideri che è un giornalista economico del Corriere della Sera che tutti conosciamo molto bene perché sappiamo che cura le pagine dedicate all'innovazione, è un grande esperto di questi settori più innovativi in rapido sviluppo, alcuni dei quali probabilmente vedremo nascere nei prossimi anni, alcuni dei quali non ci sono ancora, questo è un discorso ricorrente in questi nostri incontri ed è anche un esperto delle professioni in qualche modo perché ha scritto come salvarsi dal posto fisso, elogio del precariato a uso degli assunti a tempo indeterminato. Questo è un bellissimo calambur, no? Che credo sia una cosa che piace a Massimo Sideri perché ne ha messo uno anche nel titolo della relazione, che è una parola troppo solenne forse che non è adatta, della sua conversazione di oggi. Quindi grazie a Massimo Sideri che ha accettato questo invito. Scrive anche dei gialli, ne ha scritto uno che si chiama Free Press e quindi vedete che è un personaggio molto interessante e una volta tanto ci porterà davvero delle notizie dal futuro piuttosto che dal presente o dal passato. Poi abbiamo Silvio Garattini, Silvio Garattini, lui porta notizie dal passato, dal presente e dal futuro perché voi sapete che è uno dei massimi farmacologi italiani ed europei, è conosciuto nel mondo per un numero sterminato di pubblicazioni scientifiche, è un personaggio televisivo, tutti noi conosciamo e amiamo il suo dolce vita che è una specie di marchio di fabbrica e gli siamo molto grati perché è la seconda volta che lui partecipa a questa iniziativa di Piero Angela e sempre ci ha raccontato delle cose molto interessanti e oggi gli abbiamo chiesto di inserirsi in questo trio di interventi perché se Massimo Sideri ci darà una panoramica generale dell'innovazione, Garattini poi ci calerà in un caso molto specifico, come innovare nel campo farmacologico. È un settore che lui da sempre frequenta, ci racconterà come sia difficile inventare un nuovo farmaco, molto costoso, molto complicato, come questo richieda tutta una serie di test che rendano sicuro questo farmaco. Quindi un po' come diceva tanto tempo fa Gianni Morandi, partono mille molecole ma una ne arriva in farmacia. C'è un enorme filtro prima che queste molecole arrivino davvero in una farmacia e peraltro ne arrivano sempre troppe nelle farmacie perché una delle battaglie storiche di Silvio Garattini è che di principi attivi ce ne sono pochi ma nomi di farmaci, spesso nomi di fantasia ce ne sono troppi e quindi questo credo che sia anche uno degli spunti che ci porgerà. Ci sono moltissimi libri di Silvio Garattini, io ve ne ho portato uno tanto per farvelo vedere, Fa bene o fa male? È un libro edito da Spelling e Kuffer, sottotitolo Salute, ricerca e farmaci, tutto quello che bisogna sapere. Quindi una specie di Summa che forse ha anche qualche parentela proprio con le cose che ci racconterà. Il terzo nostro oratore di oggi, Marco Zappalorto, è un personaggio che io conosco meno degli altri due ma che conoscerò oggi meglio e sono molto contento di questo. Marco Zappalorto si è specializzato a Londra in una scuola di economia e di politica e un esperto di questioni sociali e di innovazione nel sociale. Nel Regno Unito è nato come lo posso chiamare un ente, un istituto? Ente è una parola neutra ma orrenda. Una fondazione, ecco, una fondazione che si chiama Nesta e questa fondazione che l'ha connotati, credo, pubblici, ha figliato in Italia un omologo, fondazione che si chiama anch'essa Nesta e che ha come tema proprio l'innovazione nel campo sociale. Quindi se volete il percorso di oggi per ricostruirlo rapidamente parte da una panoramica probabilmente anche un po' polemica che ci farà Massimo Sideri. Fa un approfondimento, un ingrandimento, una zoomata, direbbe Piero Angela in termini televisivi, sul farmaco e sulla ricerca che porta a innovare in campo farmacologico e chiudiamo con quel tipo di innovazione che in una società prevalentemente di servizi come quella che si prospetta nel futuro, quell'innovazione sociale che è molto importante e che di più lo diventerà nei prossimi anni. Quindi io passo la parola immediatamente a Massimo Sideri che ringrazio e gli facciamo un applauso. Saluto tutti quelli che ci stanno seguendo in streaming, oltre a Piero Angela ce ne saranno spero tanti altri, anche alcuni che magari avrebbero potuto essere qui e vi ricordo che abbiamo un profilo Instagram e che questo profilo Instagram è sorvegliato minuto per minuto per cui possiamo raccogliere anche gli interventi di coloro i quali non fossero qui o volessero comunque intervenire con questo strumento social. Massimo Sideri, prego. Grazie mille, grazie della presentazione, soprattutto ringrazio di avermi messo prima del professor Galattini perché parlare dopo del professor Galattini di innovazione è molto molto difficile in quanto lui sul serio ha fatto innovazioni che stanno cambiando la nostra vita e cambiavano la vita di tutte le persone. Io mi limiterò a raccontarvi cosa non fare, cosa non fare per evitare di frenare l'innovazione che come tenterò di dimostrarvi fa parte della nostra storia quindi userò questa accortezza un po' furba, visto che parlare di futuro è molto difficile perché voi sapete che quando uno inizia a parlare di futuro normalmente sbaglia, io in realtà la prendo molto alla larga e inizio proprio dal passato per tentare di capire cosa possiamo imparare dal passato. Allora, Storia italiana alle scoperte dimenticate, questo è un titolo che viene da uno dei miei ultimi libri perché ho scritto la sindrome di Ostacchio, la cui tesi è che noi italiani in particolare siamo particolarmente sordi, per questo avevo preso la figura di Ostacchio, ai nostri grandi innovatori, noi chiaramente tutti, noi ricordiamo Galileo Galilei, tutti Enrico Fermi, tutti i nomi che sono entrati di più nell'uso comune, però in realtà credo che abbiamo un pantheon di innovatori, di scienziati e di grandissime menti che non fanno parte del nostro percorso educativo, quindi riconosco che questo libro e questo percorso nasce soprattutto dalla mia ignoanza, un'ignoanza che poi ho scoperto essere molto vasta evidentemente perché ci sono degli elementi che nella nostra cultura tendono a non rientrare. Allora, ho messo quest'uomo che probabilmente a molti di voi non dice molto perché fa molto parte della mia generazione, io sono nel 1972, quest'uomo è Nicolas Negroponte, non so se l'avete mai intercettato, Nicolas Negroponte è un negli anni 70, tanto è stato un uomo molto molto interessante perché ha anticipato grandissime scoperte, per farvi capire quest'uomo ha detto negli anni 70 che tutti noi avremmo interagito con le dita sui computer, al tempo tutti si mise a ridere evidentemente perché consideravano la cosa impossibile, oggi tutti noi interagiamo con le dita sui computer e sugli smartphone, quindi aveva anticipato questa cosa incredibile. Pensate che un suo studente aveva sviluppato a un certo punto un'auto che si guidava da sola, lavoravano all'MIT di Boston, quindi potete immaginare abituati ai brevetti, alle invenzioni, all'innovazione, pensate che l'MIT di Boston al tempo disse guardate è inutile brevettare questa idea perché tanto non funzionerà mai, pensate cosa oggi stanno facendo queste persone, stanno mangiando le dita perché come sapete Google ha investito miliardi invece in questo nuovo progetto. Ebbene perché vi cito Nicolas Necroponte? Perché l'innovazione è probabilmente la cosa più citata negli ultimi tempi, io non ho fatto il nome della mia testata, la testata che ti dico si chiama Corriere Innovazione, quindi innovazione è una formula di marketing oggi enorme, fortissima. Però in realtà quando facciamoci, poniamo questa domanda che cos'è l'innovazione, darsi una risposta è molto molto difficile. Se guardate anche sul vocabolario è la classica tautologia, l'innovazione è l'atto di innovare, quindi tentano di spiegare l'innovazione con la stessa azione. Ebbene a un certo punto io stavo cercando una definizione che funzionasse per comprendere che cos'è l'innovazione, ho incontrato quest'uomo e quest'uomo mi ha detto una cosa interessantissima, ha detto l'innovazione è quella cosa che nessun dipendente vuole dalla propria azienda, nessun figlio dalla famiglia e nessun cittadino dallo Stato. Guardate bene, è una provocazione evidente, però è una provocazione che secondo me colpisce nel segno, perché l'innovazione è il cambiamento. Evidentemente l'innovazione vuol dire, è l'opposto dello status quo, potremmo definire così, è qualcosa che tutti noi non vorremmo evidentemente, perché chi di noi può scegliere diciamo un viaggio ignoto rispetto a una situazione di comfort? È chiaro che l'essere umano è pigro e tende ad accettare più facilmente la situazione dello status quo. Bene, l'innovazione è un momento in cui tutte le cose cambiano e quindi siamo in qualche maniera costretti a cambiare. Guardate un po' in luce, lo avevamo già detto noi italiani, perché nel gatto pardo di Tommasi di Lampedusa avevamo già visto che se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Era un po' in luce, anche qui una piccola provocazione, di quella che è l'innovazione e le forze attrattive e distruttive dell'innovazione. Mi sono permesso di migliorare, dal mio punto di vista permettetemi, la definizione di Nicolás Necroponte, perché ragionavo su questa definizione e a un certo punto mi sono reso conto che è vero anche il contrario. L'innovazione è quella cosa che nessuna azienda vuole dei propri indipendenti, nessuna famiglia da figli e nessuno stato dei cittadini. Qui ci sono io con mio figlio e chiaramente da padre io vorrei che mio figlio non crescesse mai, è inutile nasconderselo, lui vuole diventare indipendente, diventa sempre più indipendente, io vorrei tenerlo in qualche maniera inconsciamente legato a me. Ebbene questa cosa è da tenere a mente, perché guardare l'innovazione è la cosa più difficile da innestare in un processo, in un ambiente, perché alla fine tutti ci chiedono innovazione, ma voi provate in un'azienda o anche in un contesto universitario ad alzare la mano e a dire ma cambiamo tutto, proviamo questa cosa. La prima cosa che vi diranno è che non si può fare. I grandi innovatori, i grandi rivoluzionari nella vita sono quelli che riescono a convincere gli altri, a convincere il proprio ambiente che si può fare, che ci può essere questo cambiamento. Quindi ricordatevi che ci sono queste due forze oscure, sia da una parte sia dall'altra. Allora, cosa dobbiamo evitare per frenare l'innovazione con una cosa che noi in Italia sappiamo fare molto bene? Cioè noi sappiamo innovare molto bene e sappiamo anche frenare l'innovazione. Perché dico questo? Perché ci sono degli elementi che dobbiamo tenere a mente. Qualcuno riconosce quest'uomo? C'è un indizio? L'indizio chiaramente è questo qui. Mi rendo conto che è difficile da mettere a fuoco. Ma qualcuno di voi pensa cosa può essere questo indizio? È una cosa che ha cambiato tutte le nostre vite. Il mouse. Bravissimo. Questo qua è Douglas Elgerbart, il padre del mouse. Ha cambiato totalmente le nostre vite perché pensate che l'interazione uomo-macchina che oggi fa parte della nostra vita attraverso il touchscreen senza questa invenzione, innovazione non avrebbe portato da nessuna parte. Ebbene, pensate che quest'uomo è stato scoperto purtroppo quando è morto. Cioè qualche anno fa è morto e tutta la stampa del mondo ha scoperto che era morto il padre del mouse. Peccato che questo era un professore, uno scienziato molto serio. Non aveva mai brevettato le sue idee, non aveva neanche mai cercato notorietà. Quindi poi, come sapete, il mouse ha avuto una sua evoluzione commerciale, ma abbiamo scoperto questo uomo purtroppo quando è scomparso. Quindi per innovare, purtroppo, come ci hanno insegnato moltissimo i nostri amici della Silicon Valley, ci vuole un brand. Poi pensate all'Apple senza il brand Apple e capite cosa ci vuole per innovare. Altro famoso sconosciuto. Qui siamo in un'accademia, quindi normalmente non mi rispondono, ma sono sicuro che voi mi risponderete. Sì, Torricelli, evangelista Torricelli. Anche qui c'era un indizio, il barometro. Perché cito Torricelli? Perché Torricelli ha svelato quella che io considero la più grande fake news scientifica della storia. Il vuoto non esiste. Voi sapete la storia del vuoto, sapete che Aristotele a un certo punto, per oscurare la scuola di pensiero che si opponeva alla sua, cioè a Democrito, disse che il vuoto non esiste, fece entrare, diciamo, talmente questa notizia nella nostra cultura che non venne mai messa in discussione sino al 1600. Quindi dal III secolo a.C. al 1600, ipse dixit, vi ricorderete, si diceva così ancora, non l'ha detta Aristotele, quindi nessuno lo può mettere in discussione. Ebbene, quest'uomo, che era, pensate, anche un uomo di umili origini, era stato alla fine allievo di Galileo perché era riuscito a segnalarsi proprio al grande maestro Galileo che lui stimava moltissimo, peccato che sei mesi dopo la conoscenza con Galileo, Galileo morì, quindi si ritrovò di nuovo da solo in questo suo percorso, però era testardo e dimostrò che il vuoto non esiste. Perché l'ho uscito dopo Douglas Elgerbart? Perché purtroppo, cosa succede? Che in moltissimi libri, anche italiani, c'è scritto che il vuoto è stato scoperto, l'esistenza del vuoto è stata dimostrata da Pascal, tant'è che ancora oggi la pressione si misura in Pascal o in Tor, per Torricelli, Pascal, i francesi sono riusciti a imporre questa cosa. Quindi cito questa storia per dire che purtroppo questa storia del brand, il fatto di difendere in qualche maniera la paternità dell'innovazione che noi non abbiamo nella nostra cultura, è un elemento molto molto importante perché altrimenti ci ritroviamo a essere innovatori ma non ad averne i benefici. Vedremo altri esempi. Passo, faccio dei salti di secoli, adesso qui siamo di fronte a un cosmonauta, vedete un cosmonauta, non un astronauta, vi ricorderete, per noi qui abbiamo un grandissimo esperto di spazio, diciamo, ma per la mia generazione, nonostante io sia del 72, quindi tre anni dopo la discesa sulla Luna, sono nato con il mito degli astronauti. E sapete che durante la Guerra Fredda c'era questa grande corsa alla tecnologia e allo spazio, c'erano gli astronauti americani e i cosmonauti russi. A un certo punto cosa succede? Si va nello spazio e sapete nello spazio si va per fare esperimenti, ancora oggi, così si va per fare esperimenti e prendere appunti su questi esperimenti. Ebbene, sapete che cosa è successo? Una storia che sicuramente conoscete, si fa nello spazio e questo oggetto, questa tecnologia non funziona. Questa tecnologia non funziona perché in assenza di gravità anche l'inchiosso, le penne di allora non permettevano di funzionare. Qualcuno di voi sa cosa hanno fatto i russi? hanno usato la matita. C'è un altro passaggio, sapevo che mi avessero risposto a questo. Chi ha inventato la matita? Non ho sentito la risposta. La matita è stata inventata da noi italiani. La matita è un'invenzione degli italiani, dei coniugi bernacotti. Pensate, proprio la matita, sto parlando della matita moderna chiaramente, quindi la matita con un'anima in grafite, all'esterno del legno per permettere il lapis, che già esisteva nei secoli, ma la matita moderna è stata inventata dagli italiani. Bene, qui è una storia interessantissima secondo me per comprendere cosa non fare per l'innovazione, perché non esistono le matite bernacotti, esistono le matite faber ed esistono le matite contè. Pensate, contè è una storia interessantissima perché era un ufficiale dell'esercito napoleonico, era l'inventore dell'esercito napoleonico, quindi era quello che usava le mongolfiere, tentava sempre di sperimentare, infatti era molto amato da Napoleone. Dovete sapere che le miniere di grafite si trovano soprattutto in Inghilterra e quindi durante la guerra non arriva questa grafite in quantità necessarie per fare le matite. Allora questo contè, penso, ebbe un'idea imprenditoriale, quella che spesso a noi manca. Noi abbiamo l'intuizione, bernacotti, spesso non abbiamo l'idea imprenditoriale. Allora contè disse, va bene, io faccio delle matite unendo l'argilla con la grafite in maniera tale che ho poca grafite ma riesco lo stesso a commercializzare delle matite. Ancora oggi abbiamo le matite con te. Allora vi dico questo perché spesso avete sentito parlare del problema del trasferimento tecnologico. Noi siamo bravissimi nella scienza, qui abbiamo un luminare, voglio dire, siamo bravissimi nella scienza. Spesso non riusciamo a passare diciamo questa conoscenza, questa massa di conoscenza enorme che abbiamo e che tutti ci riconoscono, questa nostra capacità di raggiungere dei picchi elevatissimi nella scienza, non riusciamo a trasportarli nel mondo dell'impresa, non riusciamo a costruire delle imprese legate alla nostra conoscenza. E questo purtroppo poi si traduce in scarsa crescita economica e posti di lavoro. Quindi questo è un primo legame su cosa dovremmo fare per l'innovazione, sempre nel rispetto chiaramente della scienza, non sto dicendo di vendere l'anima al diavolo, sto dicendo che dobbiamo occuparci come paese anche di questo secondo elemento. Altra storia dimenticata, gli occhiali, sapevate che erano un'altra grande invenzione italiana? Allora gli occhiali sono un'invenzione italiana e in questo caso è interessante perché abbiamo l'impresa, abbiamo Luxottica che è il leader mondiale, quindi in questo caso non abbiamo fatto evidentemente l'errore che abbiamo fatto con la matita perché gli occhiali nascono a Venezia, abbiamo un segnale proprio dell'origine dell'occhiale nei capitolari delle arti veneziane, per la prima volta si descrivono proprio gli occhiali, anche qui esisteva già la lente di ingrandimento, non esistevano gli occhiali. L'occhiale moderna è stato inventato a Venezia dove erano molto bravi ancora adesso a lavorare il vetro e quindi questa è stata un'invenzione che in qualche maniera è stata difesa negli anni. Tant'è, vi faccio notare una piccola curiosità, se vi capita di passare a Treviso al convento di San Nicolò, questo del 1352 è anche la prima rappresentazione pittorica degli occhiali, quindi è una cosa bellissima da avere. Noi abbiamo inventato tantissime cose anche legate alla tecnologia, probabilmente sapete che il microchip, il microprocessore moderno è stato studiato da un team guidato da Federico Faggini, un italiano che al tempo era alla Intel, adesso lavora a San Francisco, quindi pensate, anche quando prendiamo lo smartphone pensiamo che sia in qualche maniera tutta tecnologia o americana o cinese, in qualche maniera ci sentiamo distanti da questa tecnologia, eppure c'è tantissima tecnologia italiana lì dentro, perché non solo il microprocessore in qualche maniera ha una sua paternità italiana, ma pensate che è anche la chiocciola, la chiocciola è un simbolo italiano, era l'unità di misura veneziana che corrispondeva all'anfora, nei secoli si è perso questo simbolo, poi è ricomparso sulle macchine da scrivere americane perché era l'abbreviazione di Atta Price At, al prezzo di. E cosa succede? Che il padre dell'email a un certo punto sta cercando qualcosa per separare il nome dell'account dall'account vero e proprio, guarda una macchina da scrivere americana e dice la chiocciola è perfetta, pensate tutti noi oggi usiamo queste chiocciole, non sappiamo che è un'unità di misura di Venezia che io in qualche maniera chiamo la Silicon Valley Anteliteram, guardate non è un esempio sbagliato perché Venezia al tempo era proprio come la Silicon Valley, cioè venivano idee, persone da tutto il mondo, tant'è che a Venezia hanno inventato anche il brevetto, quindi la difesa intellettuale nasce a Venezia non casualmente. Abbiamo inventato il pianoforte. Chi sapeva onestamente che il pianoforte è un'invenzione italiana? Una, due, tre, quattro, facciamo cinque mani qui dentro. Il pianoforte che è una delle più grandi invenzioni permettetemi di dire della storia dell'umanità, ha cambiato sul serio la vita, ha dominato da quel momento le orchestre, è una, diciamo, uno strumento di trasmissione delle emozioni agli altri, pensate a italiano e quando io vado nei conservatori dico sapete che il pianoforte è italiano e nessuno sa la storia di Bartolomeo Cristofori. Questo lo trovo veramente un problema, è un problema perché evidentemente nel nostro sistema educativo non c'è l'orgoglio di appartenenza a questa storia. È uno dei riflessi di questa mancanza di orgoglio e che magari poi voi pensate di non far parte di un paese innovativo, invece siamo un paese di grandissime innovazioni. Il pianoforte è stato totalmente inventato da Bartolomeo Cristofori. Abbiamo addirittura i prototipi. Se andate al museo degli strumenti musicali di Roma c'è addirittura un prototipo originale di Bartolomeo Cristofori, quindi ne abbiamo le prove fisiche. Esistono altri due prototipi, uno si trova in Germania e l'altro nel museo degli strumenti musicali di New York. Quindi pensate Bartolomeo Cristofori inventa il pianoforte, anche qui i pianoforti oggi famosi sono tedeschi. Peccato che non abbiano inventato il pianoforte, hanno soltanto imparato a farli molto 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 bene. Non abbiamo inventato soltanto cose positive, permettetemi la provocazione perché in questa nostra capacità creativa abbiamo inventato anche lo schema Ponzi. Quindi avrete sentito parlare molto spesso negli ultimi tempi della famosa truffa di Madoff, però quel sistema in realtà è stato inventato da un italiano, Charles Ponzi, che era nato in Italia, aveva studiato alla Sapienza di Roma a Genovese di origine, a un certo punto va negli Stati Uniti e purtroppo ha la pessima idea di rubare i risparmi degli altri italiani negli Stati Uniti. Inventa questo famoso schema Ponzi che poi viene riutilizzato spesso nella vita. Per dirvi che non sappiamo innovare soltanto nel bene, sappiamo spesso anche innovare in altri settori dove dovremmo fermarci. Le grandi idee non bastano. Qualcuno di voi vuole fare lo start-up, ci ha pensato, ha come retropensiero l'idea di fare lo start-up? Nessuno. Il mondo del lavoro non c'è, quindi può essere una delle opzioni. Comunque, qui sicuramente abbiamo uno start-up. Ebbene, ricordo sempre che voi sentivete spesso dire che il problema degli start-up in Italia è che hanno grandi idee ma non trovano i finanziamenti. Ricordo sempre che siete in buona compagnia. Perché Cristoforo Colombo è stato il primo grande start-up con un'idea eccezionale, ha cercato i capitali in Italia, non li ha trovati e come sapete è dovuto andare in Spagna. Quindi sta funzionando esattamente ancora oggi come funzionava al tempo. Bisogna in qualche maniera tentare di finanziare, questa è una mia battaglia personale, di finanziare queste grandi idee perché noi le grandi idee le abbiamo sempre avute nella storia, continuiamo ad averle, però spesso poi le grandi idee senza il giusto finanziamento non portano da nessuna parte. Il brand da solo non basta, tanto per completarvi il percorso sull'innovazione. Qualcuno riconosce questo marchio? È vero che siamo a Milano, però questo è il simbolo dei medici e voi sapete che i medici si sono tecnicamente estinti. Quindi se qualcuno di voi si domandasse che fine hanno fatto i medici, com'è possibile che la più potente famiglia di banchieri in tutta Europa non emerga più nelle crone questi giornali è perché si sono tecnicamente estinti nel 1743. Sapete perché si sono estinti? Questa è una storia interessante, perché per non dividere il proprio capitale hanno iniziato a sposarsi tra di loro. Al tempo purtroppo non si sapeva che questo avrebbe inquinato il loro sangue e avrebbe in qualche maniera indebolito il loro DNA e alla fine si sono tecnicamente estinti per l'incapacità di riprodursi sostanzialmente. Se ci pensate oggi è la storia delle aziende. Le aziende che non fanno open innovation, che non condividono, e questo è vero anche per le università. Le università si devono aprire perché la conoscenza va sempre di più condivisa. Questo è forse stato uno dei grandi benefici legati a internet. Io spesso sono critico nei confronti della rete perché ha tantissimi aspetti oscuri, ma sicuramente uno dei grandi aspetti legati alla rete è quella di spingere a condividere sempre di più. Ricordatevi i medici che non volevano condividere, essi sono estinti. Oggi abbiamo lo stesso dilemma per quanto noi siamo forti. Infatti la storia dei medici ricorda anche qualcosa che forse per voi non significa molto, ma per le altre generazioni significa tantissimo perché sino a pochi anni fa questa era molto più potente della Apple e oggi non esiste più. Quindi questo è il monito che rimane per qualunque cosa vogliate fare. Chiudo con una nota positiva perché non vorrei sembrare troppo negativo. Noi siamo in una condizione ottimale per l'innovazione perché l'innovazione normalmente funziona quando ci troviamo in una condizione di necessità. Quindi Bartolomero Diaz, sapete la storia, doppia il capo di Buona Speranza e trova una nuova via a pelle indie, quindi scoperta formidabile che ha cambiato la via dei commerci. Perché fece questo viaggio? Perché era caduta a Costantinopoli, quindi era stato costretto a cercare una nuova via, era caduta a Costantinopoli, quindi non c'era più il passaggio via terra e Bartolomeo Diaz in qualche maniera cercò una nuova strada. Allora io direi che più o meno ci troviamo in questa condizione di necessità perché effettivamente le trasformazioni, l'innovazione sta avendo un impatto non solo positivo ma anche negativo e quindi noi ci troviamo nella condizione di necessità di trovare una nuova strada. Guardate, era già stato detto da quest'uomo. John Maynard Keynes nel 1930 tiene una lezione davanti agli studenti a Madrid e scrive una cosa che trovate facilmente su internet, un testo molto breve che vi consiglio di leggere, le prospettive economiche per i nostri nipoti. Bene, John Maynard Keynes parla di circa un secolo, per lui i suoi nipoti sono quelli che verranno dopo un secolo, 1930-2019, quasi ci siamo, siamo i nipotini di Keynes. Bene, Keynes in questa lezione dice una cosa interessantissima, introduce il concetto di disoccupazione tecnologica e dice guardate l'innovazione ha sempre funzionato alla stessa maniera, distrugge posti di lavoro da una parte, vecchi posti di lavoro, ne produce di nuovi che non esistevano. Potremmo fare mille esempi ma tanto li conoscete già. L'unica cosa che deve fare un governo è preoccuparsi del saldo, lavorare in maniera tale che i nuovi posti di lavoro siano più dei posti di lavoro che si perdono, perché questa è la cosa che preoccupa più voi giovani che vi deve riguardare. Cioè in qualche maniera dobbiamo agire su queste leve, governare questa fase di transizione per ottenere il famoso saldo positivo. Poi Keynes introduceva un tema molto molto ottimistico perché lui sostanzialmente pensava che le macchine ci avrebbero affrancato dalla stessa necessità di lavorare e avremmo potuto occuparci soltanto di filosofia che era l'ultimo grande spinta dell'essere umano. Io credo che Keynes fosse leggermente ottimista da questo punto di vista però magari ha ragione lui. E guardate, anche qui era già stato anticipato il dibattito odierno tra uomini e macchine. Questa è una pièce teatrale del 1920, pensate, di Capec, un grande drammaturgo cieco che è molto 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 noto e importante perché ha introdotto il termine robot. Il termine robot si trova in questa pièce teatrale che vi consiglio di leggere, è molto divertente. Pensate, per farvela breve, che in questa storia cosa succede? Gli esseri umani producono dei robot che vanno a lavorare nelle fabbriche. Questi robot nelle fabbriche a un certo punto si stancano di lavorare per l'essere umano e pensate sia nel 1920, quindi dopo la rivoluzione russa e quindi i robot formano il primo sindacato dei robot e si ribellano all'essere umano. Chiaramente c'era, diciamo, un tentativo di raccontare cosa stava accadendo in quel momento sul mercato del lavoro, però è molto interessante perché oggi il contrasto con i robot, sentite parlare di robot che ruberebbero i posti di lavoro agli esseri umani, molte di quelli dialoghi si ritrovano in questa pièce. Vi aggiungo soltanto che se sentite parlare di robot che rubano i posti di lavoro agli esseri umani, sicuramente non siamo noi italiani perché noi siamo i sesti esportatori al mondo di robot, quindi i robot in Italia creano posti di lavoro e continuano a creare posti di lavoro anche nelle università perché sapete che ci sono dei centri di eccellenza molto molto forti e molto riconosciuti a livello internazionale sulla robotica. Vi chiudo con questo, il sogno di Marte. Chi ha visto The Martian? Tutti. Beh, pensavo di più. Non andate al cinema, non avete tempo perché studiate, bravi. Allora, The Martian è un bellissimo film, peccato che sia stato molto criticato perché non c'è nessuna veridicità scientifica, cioè tutte le cose che tentano di fare in realtà non si possono fare. Ed è stato contrapposto, come forse sapete, a Interstellar, dove sapete che Interstellar è stato scritto con l'appoggio di un fisico che poi torna e è diventato anche un premio Nobel per la fisica e quindi Interstellar in qualche maniera invece rispetta tutte le leggi di Einstein e le leggi di Newton, quindi rispetterebbe, diciamo, le grandi leggi universali. Cosa succede? Che l'unica cosa vera di The Martian è quando a un certo punto questo uomo che è rimasto da solo su Marte deve raggiungere un posto per essere ripreso dalla sua squadra. E questo posto viene citato nel film come il cratere Schiapparelli. Qualcuno di voi l'ha mai sentito? Il cratere Schiapparelli esiste sul serio, è forse una delle poche cose che esistono sul serio di quel film perché Schiapparelli è stato un grandissimo astronomo che ha lavorato a Milano e dall'osservatorio di breve ha avuto una fama incredibile alla fine dell'Ottocento perché fece queste famose fotografie, le prime osservazioni con i canali, i cosiddetti canali di Marte. Cioè per farvela breve c'erano delle immagini con delle linee dritte e quindi si aprì un dibattito mondiale sul serio, intervennero anche tutti gli astronomi americani e l'idea era se le linee sono dritte le deve aver fatte qualche intelligenza aliena in qualche maniera. E quindi nacque lì il mito dei marziani, quindi in qualche maniera abbiamo anche la paternità del mito dei marziani. Poi Schiapparelli restò sempre un po' con un piede da una parte e un piede dall'altra perché comunque riconobbe che probabilmente non c'erano delle forme aliene su Marte, però da lì nasce tutto il grande dibattito sui marziani e quindi abbiamo in qualche maniera anche prodotto un po' questo immaginario. So cosa mi volete dire, ci ha parlato di un sacco di cose del passato e a noi ci interessa il futuro. Guardate che oggi peraltro abbiamo qui un testimone, noi stiamo facendo delle cose incredibili, stiamo facendo delle cose incredibili anche oggi, senza neanche parlarvi dell'Orivetti, di quello che avremmo potuto fare negli ultimi 40-50 anni. Per esempio oggi nella scienza medica stiamo facendo dei passaggi incredibili sulle biotecnologie. Noi non siamo, siamo, come ho detto prima, forse capaci di creare la grande società biotech, ma guardate che molta di quella scienza dietro è italiana, ci sono dei grandissimi professori, dei grandissimi genetisti italiani che tutto il mondo ci contende e quindi su molte di queste cosiddette professioni del futuro, robotica, intelligenza artificiale, biotecnologie, noi abbiamo molto molto da dire, ma su questo mi taccio perché non voglio chiaramente dire delle sciocchezze di fronte al professore. Grazie mille. Grazie, grazie Massimo Sideri. Apparentemente ci ha parlato del passato, ma in realtà ci ha dato un sacco di dritte per il futuro, perché ci ha detto il concetto di brand è essenziale, non sempre sufficiente, ci vuole un contesto, ci vuole un contesto che finanzi le start-up, naturalmente ci vogliono le idee delle start-up, ma quelle a quanto sempre l'Italia le ha sempre avute. Una cosa curiosa è che gli americani hanno cercato di recuperare questo errore, di spendere un sacco di soldi per fare una biro che funzioni in assenza di peso e di fatti tutti noi poi abbiamo contribuito a rifondere alla NASA i soldi che aveva speso andando a Cap Canaveral a comprare le biro dello spazio. Gli unici che comprano le biro dello spazio siamo noi che non ci andiamo, i russi naturalmente sono andati con la matita a grafite, ma quella biro strana che avevano inventato alla NASA per gli astronauti ha avuto una funzione, perché Apollo 11, che fu la missione che per prima scese sulla Luna, poi ce ne furono altre fino al 72, Apollo 11 ebbe una disgrazia che gli astronauti Armstrong e Aldrin che erano a bordo, nel mettersi la tuta, ruppero una levetta, non una levetta qualsiasi, ruppero la levetta che serviva per ripartire, per tornare al collega che stava in orbita intorno alla Luna e quindi poi anche al sulla Terra. E Aldrin prese una di quelle biro sciagurate che erano costate un occhio della testa e che funzionavano pure male, la mise nel buco dove c'era la leva, fece il contatto e ripartirono. E questa biro è appesa a casa di Aldrin, che adesso non sta più in California ma da poco è andata a stare in Florida, e c'è scritto con questa matita sono ritornato sulla Terra, grazie a questa matita sono ritornato sulla Terra. Sempre in tema di biro, perché mi ha stuzzicato, allora scusate, qui a Torino se voi passate all'incrocio tra corso in Audi e corso Reumberto, troverete che in quella casa, sull'angolo, abitò Marcel Bic. Bic fu quello che rilanciò davvero la biro e la fece in modo che funzionasse, perché andò in Svizzera e comprò dei macchinari talmente precisi da poter fare delle sfere che davvero prendessero da una parte l'inchiostra e dall'altra lo posassero senza sbavare sulle giacche, tutte le giacche mie di ragazzo sono sbavate dalle biro. Ma poi arrivò Bic e inventò anche l'uso e getta. Chiusa questa parentesi perché Massimo mi ha provocato, ecco allora a voi Silvio Garattili. Prego professor Garattili. Buon pomeriggio a tutti, grazie per questo gentile invito, sono molto lieto di essere con voi una seconda volta perché sono già stato qui l'anno scorso. Vi parlerò del tema, qui non ce l'abbiamo, posso fare la prima forse? No, ho fatto una... Ecco, questo è il tema da un'idea a un farmaco e quello che ho scelto di fare non è tanto di parlarvi dei vari tipi di farmaci, di quelli di oggi e di quelli di domani che saranno molto diversi da quelli di oggi perché, come è stato accennato giustamente, saranno più di origine biotecnologica, cioè oggi usiamo sostanze chimiche per andare a cambiare qualcosa nell'organismo, domani invece useremo dei geni per andare a cambiare geni che non funzionano bene nel nostro organismo. ma comunque qualunque sia la tecnica, qualunque sia il prodotto preparato dalla chimica, dalla microbiologia o dalla genetica, quello che volevo cercare di farvi vedere oggi è la metodologia, cioè come si fa a sapere se qualcosa serve o non serve. Quale è la procedura? Perché questa è una delle cose che dobbiamo sapere perché in una società che diviene sempre più tecnologizzata è molto importante che voi abbiate non tanto la conoscenza dei contenuti della scienza ma la conoscenza della metodologia che usa la scienza per arrivare a stabilire che cosa bisogna fare. Quindi comincerò con un mini vocabolario, così ci intendiamo, un vocabolario farmacologico. Cos'è la scoperta? Una scoperta è una dimostrazione di un effetto che si considera positivo. Molte scoperte rimangono lì, come è stato detto prima, molte scoperte non vengono seguite, sono delle informazioni, sono delle idee che rimangono a disposizione di chi le voglia andare a cercare e di chi magari se ne voglia approfittare. Lo sviluppo è invece una lunga procedura che va dalla idea, quella che gli inglesi chiamano la discovery, che va da questa idea che permette di stabilire che qualcosa può essere positivo, a stabilire e a ottenere qualcosa che si può dichiarare essere positivo per la nostra salute. E questa è una lunga procedura per presentare sostanzialmente un dossier che raccoglie tutto quello che si è studiato per ottenere la possibilità di commercializzazione. Ma per ottenere la possibilità di commercializzazione c'è un'autorità regolatoria. Questa autorità regolatoria giudica se il dossier è adeguato oppure no. Oggi a livello europeo abbiamo una sola autorità regolatoria che è l'EMA, European Medicine Agency. Cioè è un'autorità regolatoria che decide per tutti i 27 stati europei. Quando un farmaco è approvato da l'EMA automaticamente deve essere messo a disposizione in tutti gli stati europei perché tutti gli stati concorrono a far funzionare questa agenzia. Quello che chiamiamo dopo che il farmaco è messo in commercio c'è quella che viene chiamata il follow up, cioè quello che segue, che alcuni chiamano anche la fase 4. E questa è tutta un'altra ricerca che è necessario fare per conoscere meglio il farmaco dopo la sua commercializzazione. Quando un farmaco esce in realtà sappiamo molto poco. Conosciamo una dose che si può utilizzare ma non sappiamo se è la dose migliore o peggiore. Conosciamo un certo periodo di tempo che si deve utilizzare ma non sappiamo se è un tempo ottimale oppure no. Quindi ci vogliono degli studi per capire questo tipo di come ottimizzare l'impiego di un farmaco e poi un farmaco viene utilizzato insieme con tanti altri. Quindi dobbiamo sapere se ci sono delle interazioni e così via. C'è tutta una serie di cose che dobbiamo fare nella fase 4 per capire come utilizzare bene quel determinato farmaco. Ancora dobbiamo distinguere, e questo deve essere molto chiaro quando guardiamo i dati che riguardano i farmaci, quello che chiamiamo un effetto surrogato da quello che chiamiamo un effetto terapeutico. Sono due cose molto distinte. Vi do lì un esempio. Un esempio di effetto surrogato è misurare il colesterolo. Diminuire il colesterolo è una cosa che è considerata molto importante. Ma a me come paziente non mi interessa molto che il mio colesterolo sia alto o basso. Quello che mi interessa è di sapere che se il mio colesterolo discende ci sia veramente quello che chiamo un effetto terapeutico, cioè una diminuzione della mortalità, una diminuzione, spugniamo, dell'infarto cardiaco, una diminuzione delle fratture o qualsiasi altra cosa che sia importante per la mia salute. Questo è molto utile da ricordare perché oggi si tende molto a puntare e a far credere alla gente che il vero nemico sia il colesterolo, sia la glicemia, sia la scarsa densità ossea, se parliamo di ossa. Perché? Perché a seconda di come mettiamo questi livelli noi induciamo o no terapia, aumentiamo il mercato. Se io dico che il colesterolo normale è 240 mg per decilitro, tutti quelli che ce ne hanno un po' di più verranno trattati con un farmaco nella speranza di ottenere un risultato positivo. Ma se dico che invece è meglio 220, ce ne sono molti di più. Se dico come si dice oggi che il livello deve essere il più basso possibile, nessuno di noi sfuggirà all'idea di prendere un farmaco per avere un livello. Quindi è molto importante che il farmaco deve ottenere non gli effetti surrogati, deve che qualche volta naturalmente sono utili misurare, è importante, ma quello che vogliamo ottenere alla fine è un miglioramento della nostra salute. Il che vuol dire diminuzione alla mortalità, diminuzione delle malattie, miglior qualità di vita. Al di fuori di questo non ci sono effetti terapeutici da ricordare. Allora brevemente io vi dirò qualcosa su quella che chiamiamo discovery, il development, l'authorization e il follow up. Forse non riesco a far tutto perché ho detto al nostro moderatore di dirmi quando arrivo alla mezz'ora perché mi fermo perché voglio invece avere le vostre domande che sono molto più importanti. La prima idea per la discovery deriva fondamentalmente quasi sempre da una lettura della letteratura scientifica. Non c'è niente che sia così completamente originale da non aver dietro nessuna conoscenza che ha permesso poi di sviluppare qualcosa. È guardando, è leggendo, è osservando, è studiando che a uno viene una buona idea e questa buona idea la deve sperimentare. Io che ho un lungo chilometraggio vi posso dire che le cose sono molto cambiate rispetto al passato. Quando negli anni 50 io mi occupavo già di ricerca vi posso dire che quello che facevamo per trovare un nuovo farmaco era quello che possiamo chiamare un effetto funzionale. Vi do un esempio. Prendevamo da un coniglio per esempio un cuore, lo facevamo vivere in vitro, questo cuore batteva e per esempio se volevamo studiare le sostanze che agissero sulla tachicardia cercavamo dei prodotti che facevano diminuire il battito cardiaco. Dopodiché una volta trovato andavamo a cercare con i mezzi limitati che avevamo allora a disposizione andavamo a cercare quale fosse il meccanismo d'azione. Oggi le cose sono completamente cambiate perché oggi prima si cerca il bersaglio e poi si va a vedere se a questo bersaglio corrisponde una funzione. Cioè in generale si fa quello che si chiama uno screening molecolare. Cioè io ho avuto l'idea che quell'enzima, quel gene, quella proteina è importante per quella malattia e cerco di contrastarla e quindi dopodiché andrò a vedere se a questo contrasto corrisponde poi veramente un effetto positivo. Quindi possiamo dire che nel passato studiavamo prima l'effetto sulla funzione e poi il meccanismo, adesso studiamo prima il meccanismo e poi l'effetto sulla funzione. Evidentemente nessuno delle due è ottimali, quello che speriamo in futuro è di poter fare una mediazione fra queste due possibilità. Vi do un esempio. Ieri per trattamento dei tumori utilizzavamo dei farmaci citotossici, dei farmaci che agivano contro la divisione cellulare e li utilizziamo guardando all'organo. Trattavamo in modo uguale tutti i tumori della mammella. Oggi sappiamo che non dobbiamo far così perché i tumori della mammella sono un numero infinito di differenti tipi di tumore e quindi andiamo a trattare specificamente, sapendo quali sono i bersagli, questi sottotipi e addirittura quello che sta succedendo è che non guarderemo nemmeno più agli organi ma quello che faremo sarà di andare a guardare le mutazioni, se quella mutazione è importante che sia presente nel fegato, nel tumore del fegato, del polmone o della mammella metteremo tutti insieme quelli che hanno lo stesso pattern, lo stesso pannello di mutazioni. Quindi le cose stanno molto cambiando. Però il meccanismo è sempre quello. C'è una malattia, quali sono le cause, qual è il bersaglio che possiamo scegliere, troviamo dei prodotti anti-bersaglio, su quali funzioni agiscono, c'è un'applicabilità, sì o no. Se c'è un'applicabilità si va avanti e si passa allo sviluppo che è quello che ho riassunto qui. Tante volte dobbiamo ritornare indietro, cioè quello che pensavamo fosse utile in realtà non è utile per qualche ragione perché non è sufficientemente attivo, perché è troppo eliminato dall'organismo, perché è tossico, perché c'è tante cose. Bisogna continuare a fare avanti e indietro in questo schema che va appunto da un'ipotesi fino al trattamento nell'uomo. E questo pone un problema che oggi è molto vivo nella nostra società e che, diciamo, va ha analizzato attentamente perché noi non possiamo pensare oggi, anche indipendentemente dal pensiero di ciascuno, noi oggi non pensiamo pensare di fare esperimenti nell'uomo, che sono quelli che ci aiutano per capire se qualcosa è attivo oppure no alla fine, se non passiamo attraverso quella che si chiama una sperimentazione preclinica, cioè prima di arrivare alla clinica. E questo, diciamo, implica dei problemi perché abbiamo delle forti opposizioni, delle posizioni molto vocali che una volta erano puramente di natura etica, che possono essere anche condivise, ma che oggi sono di natura cosiddetta scientifica, in realtà sono pseudoscientifiche, perché, per esempio, le due obiezioni principali sono, prima, gli animali sono molto diverse dall'uomo, quindi che cosa fate? Giocate con gli animali, tanto poi non servirà niente per l'uomo. In realtà questo è vero, lo sappiamo anche noi, che un topo è diverso dall'uomo, ma però quello che dobbiamo sfruttare sono le similarità che esistono. Gli organi del topo sono uguali a quelli dell'uomo, anche il topo ha un cervello, ha due polmoni, ha un cuore, ha due reni, ha un fegato, ha un sistema circolatorio, come ce l'abbiamo noi, un cuore che pompa, ha un sistema nervoso, ha degli ormoni che sono uguali ai nostri, ha capacità immunitarie per opporsi alle malattie, non solo, ma la genomica, i geni del topo sono fatti, dico del topo per dire il più basso animale che utilizziamo, ma ha maggior ragione nel cane, nel maiale, nella scimmia, eccetera. Quindi i geni sono fatti nello stesso modo, le proteine sono fatte nello stesso modo, credo che abbiamo circa il 90% di proteine che sono le stesse nel topo come nell'uomo. Il topo ha un metabolismo del glucosio come ce l'abbiamo noi, ha un metabolismo del colesterolo come ce l'abbiamo noi, ha un metabolismo delle proteine come ce l'abbiamo noi e anche il topo ha una patologia come ce l'abbiamo noi e come ce l'hanno tutte le specie animali. Tant'è vero che noi possiamo sfruttare questa situazione, qui vi faccio vedere soltanto, ne potrei far vedere, fare una intera chiacchierata su queste cose, ma ne faccio vedere solo uno. Questo per esempio è un modello di topo che noi utilizziamo per studiare una gravissima malattia che è la screlosi laterale ammiotrofica, una malattia che è fortemente disabilitante e che in pochi anni determina la morte in condizioni molto gravi. E qui noi, se guardate questo schema, potete rivedere quella che è la sintomatologia che abbiamo negli uomini che sono colpiti da questa malattia. Quindi questo, diciamo, vi dice, e questo lo possiamo fare per tantissime altre malattie, certo, non è esattamente la stessa malattia dell'uomo, ma ci aiuta a capire dove dobbiamo agire e ci aiuta a sviluppare dei farmaci che poi piano piano andremo a vedere se sono applicabili anche all'uomo oppure no. E di fatto noi, insomma, abbiamo tante condizioni in cui, per esempio, questo è un prodotto che agisce sull'infarto cardiaco, agisce nel topo e agisce nello stesso nuovodo anche nell'uomo. Qui c'è una serie di farmaci, qui vi posso garantire, non ho il tempo per dimostrarvelo, mi posso garantire, sono farmaci molto importanti, dagli antidiabetici all'antinfarto, agli antipertensivi, agli antiaritmici, agli antipsicotici, agli antitumorali, sono tutti farmaci che sono stati sviluppati attraverso dei modelli animali. Naturalmente sono dei farmaci che nascono poi da tante modifiche che sono stati fatti, ma comunque sono senza la sperimentazione animale, oggi non avremmo questi farmaci. E ricordiamo anche che poi questi sono i farmaci che non sarebbero disponibili per gli animali se non fossero stati sviluppati per l'uomo. Perché se noi abbiamo per i nostri animali, diciamo, casalinghi, cani e gatti, possiamo avere farmaci molto efficaci, lo dobbiamo al fatto che li abbiamo sviluppati in questo modo, altrimenti non li avremmo disponibili. L'altra obiezione che viene fatta è che esistono metodi alternativi. Quando si parla di metodi alternativi, evidentemente si parla soprattutto di culture in vitro. Quindi si dice, ma perché utilizzare gli animali? Oggi abbiamo tante modalità per cui possiamo mantenere in vitro le cellule del fegato, le cellule del polmone, anche le cellule del cervello. Addirittura possiamo fare degli organoidi, cioè possiamo fare delle cose che rassomigliano vago modo, diciamo, agli organi degli animali e agli organi umani. Perché dobbiamo fare questo? Lo dobbiamo fare perché qualsiasi metodo in vitro è un metodo estremamente semplificato rispetto alla complessità, e questo è un concetto che bisogna avere molto ben presente, un organismo vivente è di una complessità straordinaria, noi non siamo neanche capaci di comprendere a fondo, quindi la complessità è quella che determina la difficoltà di accettare un sistema che invece è estremamente semplice, che ci può essere utile. Posso dire che nel nostro istituto il 70% degli esperimenti che facciamo li facciamo in vitro, però a un certo punto bisogna passare a vedere se quello che abbiamo visto in vitro funziona anche in vivo. E poi i metodi alternativi, bisogna dire che non li inventano gli oppositori, i metodi alternativi li inventano i ricercatori, perché quando c'è uno sviluppo tecnologico noi possiamo evitare di utilizzare gli animali. voi siete tutti molto giovani, quindi non sapete, per esempio, che una volta si dovevano utilizzare migliaia di conigli per mettere a disposizione del diabetico l'insulina. L'insulina non sapevamo come misurarla, bisognava vedere nel coniglio quanto diminuiva la glicemia e poi sulla base di quello stabilivamo delle unità internazionali che erano lo standard che permetteva di dare sempre lo stesso tipo di attività del farmaco al paziente diabetico. La chimica ha fatto grandi progressi e adesso la possiamo dosare, misurare direttamente con delle metodologie adeguate. Non si discute più neanche il problema, cioè nessuno farebbe più una misura andando a vedere che cosa succede nel coniglio. E così, insomma, tanti sviluppi tecnologici permettono di abolire la sperimentazione animale, ma ci sono ancora moltissime cose che dipendono da quello. Soprattutto dipende dall'animale questo schema che vi mostro. Cioè, quando somministriamo un farmaco, non è che questo farmaco è a disposizione dell'organismo dappertutto. L'organismo reagisce alla somministrazione di un farmaco, lo trasporta, lo distribuisce, lo accumula in certi posti piuttosto che in altri e soprattutto lo metabolizza. Cioè, lo trasforma e lo trasforma in determinate... Siamo già a mezz'ora? Ahimè. Allora, vado veloce. Vi faccio vedere quest'altra cosa e poi vi faccio vedere soltanto un'ultima cosa. Qui, diciamo, vi faccio vedere come è una sostanza, non so se le cete, si è scritto lì, aripiprazzolo, è una sostanza chimica che si usa come antipsicotico. Guardate nell'organismo quante sostanze si generano. E queste non è che si generano in vitro. Quindi, quando noi somministriamo un farmaco in vitro, il farmaco rimane lì bel tranquillo e fa la sua attività. Ma quando lo somministriamo in vivo, il farmaco può essere trasformato anche in un centinaio di diverse sostanze chimiche. E quindi è necessario mostrarlo in vitro. Questa è una tecnica che vedete qui, che è una tecnica che possiamo utilizzare su un sistema, su un'istologia, su un vetrino. Abbiamo una fettina di tessuto e con questo sistema, che è una tecnica di spettrometria di massa, andiamo a guardare punto per punto di quel tessuto quali sostanze sono presenti. E quindi possiamo misurare quali sostanze sono lì, in quel determinato punto, attraverso questa tecnologia. Cosa vediamo? Ecco, vedete, se voi prendete una sezione di tumore in vitro, vedete tutto il chiaro e dove è arrivato il farmaco che ci interessa. Vedete che è dappertutto. Se voi prendete una sezione, un tumore, invece trattato in vivo, vedete che ci sono delle aree in cui il farmaco non c'è. E questa è una delle grandi ragioni per cui i farmaci non sempre sono molto attivi sui tumori, perché non arrivano a tutte le cellule, si fermano. Il sistema tumorale non è fatto solo di cellule tumorali, è fatto di tantissime altre cose. Allora, passo rapidamente, anche soltanto per dirvi che comunque certi altri sintomi, ipertensione, vomito, attacchi asmatici, memoria, non li possiamo studiare sulle cellule. Abbiamo bisogno di studiare dei farmaci. Questo è un salto perché volevo dirvi che comunque oggi abbiamo anche nei nostri laboratori, non sono più degli stabulari, sono delle cliniche del topo, perché abbiamo tutti gli strumenti, inclusa la risonanza nucleare magnetica, inclusi l'attacchi, inclusi tutto quello che volete, noi l'abbiamo a disposizione per il topo, proprio per avere queste possibilità. c'è la tossicologia che bisogna fare, perché prima di portare un farmaco in clinica bisogna essere sicuro che non sia tossico, e ci sono tutti questi aspetti, e poi c'è la sperimentazione clinica. E qui ci sono tre fasi, poi vi faccio vedere l'ultima e non ne parliamo più. La fase 1 è una fase molto importante, perché è la prima volta che si porta un farmaco in clinica, e quindi bisogna sapere qual è la dose che può essere tollerata, questo viene in generale fatto nei volontari che si prestano per questo tipo di ricerca. Abbiamo una fase 2, che è quella di cominciare a vedere se il farmaco agisce oppure no, anche se non sappiamo quanto e come, però nella fase 2, se abbiamo un farmaco anti-ipertensivo, quando abbiamo trovato la dose che può andare bene, che viene tollerata, andiamo a vedere se veramente la pressione diminuisce prima di fare altre cose. E poi abbiamo lo studio clinico controllato, per cui vi mostro questo... Si racconta che il primo test clinico della storia si è avvenuto nel 1747 su una nave della Corona Britannica. Il medico di bordo, per scoprire la migliore terapia contro lo scorbuto, distribuì vari preparati, secondo le conoscenze dell'epoca, ai marinai divisi a due a due. Uno di questi preparati era composto di arance e di limoni. Solo i due marinai che lo presero guarirono. Questo test risolse l'incertezza e rivelò la cura più efficace. Le cose sono ovviamente molto cambiate dal 1747, ma ora come allora, l'unico modo per rispondere alle incertezze sui vantaggi e gli svantaggi dei trattamenti è fare studi clinici. Studio clinico. Primo punto. Il progetto dello studio clinico deve essere approvato non dagli stessi sperimentatori, che ovviamente potrebbero avere qualche interesse ad un buon risultato, ma da un comitato etico, composto da esperti indipendenti e anche da comuni cittadini. Secondo punto. Bisogna dividere i pazienti prescelti in due gruppi. Quello cui verrà somministrato il nuovo farmaco è un secondo gruppo che funzionerà da controllo. Al gruppo di controllo verrà dato un placebo, cioè un preparato inerte, ma dall'apparenza in tutto e per tutto simile al farmaco da mettere alla prova. Nei casi in cui per quella malattia esista già un farmaco efficace, invece del placebo, al gruppo di controllo verrà dato, per motivi etici, il farmaco già disponibile. Questa distribuzione dei pazienti nei due gruppi dovrà essere assolutamente casuale, un po' come estrarre i numeri di una tombola. Quello che tecnicamente si chiama randomizzazione e permette di ottenere gruppi omogenei da confrontare. Terzo punto. Nel test, i pazienti non devono sapere se stanno ricevendo il farmaco o il placebo, ma nemmeno i medici devono sapere cosa stanno somministrando. Il test deve essere organizzato in modo che tutti siano all'oscuro. In questo modo si eviteranno suggestioni o pressioni anche involontarie. Il doppio cieco, appunto. Quarto punto. Alla fine dello studio clinico, le cartelle cliniche dei pazienti dei due gruppi devono essere analizzate da una terza equipa medica che non ha partecipato al doppio cieco, anzi, ne è totalmente estranea. Quinto punto. Lo studio clinico con il doppio cieco deve essere ripetuto in altri centri indipendenti. Sesto punto. Non basta che il nuovo farmaco si riveli efficace statisticamente nei confronti del controllo. Il farmaco deve migliorare realmente le condizioni dei pazienti. Quindi bisogna valutare sia i benefici che gli effetti collaterali, cioè dannosi. Un'attenta misura dei benefici e dei danni. Questo video che poi è molto più lungo può essere messo a disposizione è stato realizzato in 27 lingue e quindi credo che tutti possono vederlo. Basta scrivere e vi diamo l'accesso senza naturalmente alcuna spesa. Voglio soltanto dirvi un'altra piccola cosa ma dato il permesso di qualche minuto in più. Vi ho fatto vedere che alla fine di questo processo qui avete visto come si fa uno studio clinico controllato alla fine di questo processo c'è qualcuno che guarda tutti i dati e decide se approvare oppure no. E l'EMA ma poi questo arriva in Italia e in Italia abbiamo un'altra situazione perché è vero che abbiamo l'obbligo di mettere in commercio tutti i farmaci approvati da l'EMA ma non abbiamo l'obbligo di inserirli nel servizio sanitario nazionale. Voi sapete che oggi viviamo in un sistema servizio sanitario nazionale che è un sistema straordinario di cui voi non potete neanche lontanamente capire i benefici perché non avete vissuto il periodo di prima quando non c'era il servizio sanitario nazionale e quindi purtroppo il servizio sanitario nazionale non è capace di farvi di far apprezzare alla gente quanto è importante e quanto dannoso sarebbe il fatto di perdere questo sistema. Comunque dicevo in Italia l'AIFA che è l'organismo regolatorio deve selezionare fra questi farmaci i farmaci che vengono poi rimborsati gratuitamente. Purtroppo a livello europeo la lobby dell'industria farmaceutica è riuscita a ottenere come criteri di approvazione di un nuovo farmaco i primi qualità efficacia e sicurezza. Questo vuol dire sono tre cose molto importanti la qualità l'efficacia la sicurezza però questo vuol dire che non chiede se il farmaco nuovo è meglio o peggio di quello prima non si deve dimostrare sarebbe molto diverso il caso se ci fosse invece qualità efficacia sicurezza e valore terapeutico aggiunto cioè dovrebbero essere approvati solo i farmaci che danno qualcosa di più qualsiasi cosa essa sia ma che sia qualcosa di più però se danno qualcosa di più dovremmo togliere quelli che danno qualcosa di meno cosa che naturalmente non facciamo perché è contro il mercato della medicina questo determina questa situazione che è stata fatta da un gruppo indipendente di persone che hanno valutato quello che veramente abbiamo in commercio su un totale di 943 principi attivi esaminati vedete che le valutazioni sono per circa 49 58 un reale vantaggio cioè i farmaci non è che siano tutti inattivi i farmaci sono un grande bene che abbiamo a disposizione però guardate quanti ce ne sono niente di nuovo non accettabile cioè farmaci che sono inutili sono la stragrande maggioranza e questo è molto importante averlo nella testa perché bisogna poi saper scegliere bene quindi vi ho fatto vedere una metodologia attraverso cui un farmaco deve venire sviluppato quando andate in farmacia quando vedete tanti prodotti con tante indicazioni quando vedete tutti questi integratori alimentari che promettono grandi miracoli chiedetevi sempre e chiedete sempre a chi ve li offre ma questa cosa qui questo prodotto ha seguito tutte queste regole o invece è frutto soltanto di una idea che non ha dietro questa dimostrazione perché è la metodologia quella che è importante nella scienza purtroppo non si segna nella scuola ma speriamo che in futuro le cose cambino grazie grazie professor Garattini lei ha ribadito alcune alcune idee chiave che ritornano in questo nostro ciclo di incontri e l'ha ribadito con la consueta chiarezza e assertività siamo veramente molto diciamo incantati insomma dalla sua capacità di sintesi ed è stato in realtà nei tempi quindi la ringrazio davvero davvero tantissimo e adesso tocca a Marco Zappalorto Marco Zappalorto ci parlerà sì 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 con il con il microfono cosiddetto gelato ci parlerà di innovazione ma un tipo di innovazione a cui non siamo tanto abituati e quindi qualche cosa di davvero abbastanza inedito per tutti noi prego Marco Zappalorto poi naturalmente avremo delle domande e ne approfitto per salutare Emanuele Musso del Politecnico di Torino saluto Fabrizio Fodde Viviana Morielli sì applauditeli pure applauditeli tranquillamente e Stefano Fumero che vengono tutti dalla classe quarta D del liceo di scienza applicata di Baldessano Roccati di Carbagnola prego questo funziona buon pomeriggio a tutti vi ringrazio per l'invito sono Marco Zappalorto e devo ammettere che è molto difficile parlare dopo due due relatori come come il il professor Grattini e il il dottor Sideri comunque ci proverò la mia presentazione sarà un po' in inglese e un po' in italiano perché appunto Nesta è una realtà che nasce in Inghilterra che si occupa di innovazione sociale che adesso ha aperto l'headquarter europeo qui in Italia a Torino e oggi abbiamo parlato la serie di incontri parla di futuro ma oggi si parla appunto di problemi prodotti e soluzioni e quello che che Nesta fa Nesta nasce con una missione molto chiara circa 20 anni fa e l'obiettivo era proprio quello di trovare soluzioni a delle sfide sociali a delle problematiche sociali per costruire per lavorare sulla costruzione delle comunità del futuro cioè per garantire il benessere dei cittadini nel futuro cittadini che devono essere sicuramente inclusi nel benessere sociale ma che devono anche essere sempre più connessi ed è quello che facciamo ci occupiamo di identificare delle problematiche sociali e di capire come le innovazioni e le tecnologie possono in qualche modo risolvere queste problematiche e apportare dei benefici ai cittadini come dicevo Nesta nasce nel 1998 come un'agenzia del governo inglese per iniziativa del governo laborista di quei tempi e nasce Massimo ha parlato di open innovation nasce proprio in una visione di pre open innovation perché nel 1998 non ancora si parlava di open innovation come se ne parla adesso e il governo inglese di quei tempi si era accorto che nel corso del novecento si era investito molto nell'innovazione che avveniva all'interno dell'industria e si era visto poco si era investito molto poco nella creatività delle persone e nei soggetti che stavano lavorando sullo sviluppo di innovazioni in una maniera non tradizionale ed è per questo che Nesta nasce con una donazione di 250 milioni di sterline che il fondo della lotteria nazionale fece al governo inglese per creare questo National Endowment quindi fondo nazionale for science technology and the arts per le scienze per le tecnologie e per le arti e quindi l'obiettivo di Nesta inizialmente era proprio quello di andare in qualche modo a supportare qualsiasi persona avesse un'idea che in qualche modo avesse senso e che a portarsi dei benefici alla società nel corso degli anni la missione di Nesta è cambiata in maniera radicale fino a quando nel 2012 siamo diventati indipendenti dal governo diventando una fondazione conservando il fondo per fortuna di 250 milioni che nel frattempo è accresciuto che adesso vale 430 milioni come ho annunciato ci occupiamo di innovazione sociale quindi l'innovazione sociale sono tutte quelle innovazioni quei miglioramenti quei prodotti quelle tecnologie quei servizi quei metodi che hanno un impatto positivo sulla società e utilizzando il punto di forza di Nesta è che utilizziamo una serie di metodi diversi per andare a individuare a capire approfonditamente le problematiche sociali che trattiamo e poi sviluppiamo o supportiamo lo sviluppo delle soluzioni ci occupiamo ci focalizziamo principalmente su quattro aree che come vedete sono anche molto vaste partendo da istruzione salute arte e cultura e innovazione nel governo government innovation intendiamo tutta quella che è innovazione nell'erogazione di servizi pubblici che possono rendere l'erogazione di servizi pubblici più efficiente e più efficace questo è il nostro metodo di lavoro come vedete è una spirale quindi noi utilizziamo questa spirale un po' ovunque e ogni nostro progetto viene basato su questa spirale partiamo sempre dal numero uno che è l'identificazione di problemi di sfide ma anche di opportunità e questo viene fatto in due modi viene fatto dal nostro team di ricerca che lavora in continuazione per capire quali sono le problematiche che emergeranno in un futuro prossimo ma anche in collaborazione con i nostri partner noi lavoriamo sempre in partnership adesso abbiamo progetti attivi in oltre 30 paesi nel mondo quindi lavoriamo con oltre 30 governi nel mondo e i nostri partner ci molto volte suggeriscono o ci chiedono aiuto per risolvere delle problematiche che loro si dovono affronteggiare una volta che abbiamo studiato approfonditamente queste problematiche cerchiamo di capire qual è il modo migliore per andare a trovare delle soluzioni qualora non ci fossero o per supportare lo sviluppo di queste soluzioni e l'impatto che hanno sulla società e questo lo facciamo utilizzando una serie di metodi diversi a supporto di innovazione sicuramente avrete sentito parlare di investimenti di impatto di incubatori di acceleratori diciamo che la peculiarità di Nesta è che invece di occuparci di una metodologia sola all'interno della nostra organizzazione abbiamo tutti questi strumenti a supporto dell'innovazione utilizziamo tutti questi strumenti nel corso degli anni li abbiamo sperimentati tutti abbiamo creato delle competenze in tutte queste aree e in più quando emergono dei nuovi strumenti a supporto dell'innovazione cerchiamo di anticipare la diffusione di questo strumento è di testare la validità prima che diventi mainstream l'abbiamo fatto ad esempio con il crowdfunding che sono ormai circa dieci anni che utilizziamo questa metodologia la cosa interessante è che quindi una volta che identifichiamo attraverso la ricerca qual è l'intervento che dobbiamo attuare per trovare delle soluzioni in quel campo poi cerchiamo anche di capire qual è il metodo più efficace per risolvere il problema o quali sono i metodi che combinati ci possono aiutare a risolvere quel problema passo a degli esempi pratici per poi parlare brevemente di quello che stiamo facendo in Italia stiamo lavorando con Toyota che tutti quanti sicuramente conoscerete e in particolare lavoriamo con la Toyota Mobility Foundation che è una fondazione di Toyota che si occupa principalmente di mobilità di accessibilità e con Toyota quello che abbiamo fatto ovviamente occupandosi di accessibilità quello che Toyota ha chiesto di fare con loro è un progetto dedicato a sviluppare dei prodotti e delle soluzioni che aumentassero la mobilità e l'indipendenza di persone affette da paralisi agli arti inferiori e quindi nel 2017 abbiamo lanciato questo progetto che ha messo a disposizione 4 milioni di dollari a supporto di queste soluzioni e come vedete ci sono state varie fasi e attraverso questo è un progetto aperto a livello internazionale la prima fase era quella di raccolta di idee e di suggerimenti una giuria di esperti ha selezionato le idee più valide e queste idee più valide dal 2018 a settembre 2020 riceveranno un supporto che comprenderà sia finanziamenti anche ingenti quindi che vanno dai 50 mila a un milione di dollari ma riceveranno anche una formazione quella che viene definito capacity building cioè riceveranno anche un tipo di formazione che non solo è nello sviluppo del loro modello di business ma anche nello sviluppo proprio del prodotto quindi avranno degli esperti che li aiuteranno a sviluppare e a portare sul mercato queste tecnologie utilizziamo anche gli investimenti di impatto ma l'investimento di impatto chiaramente come vedete da questa spirale l'investimento di impatto è alla fine della spirale perché una volta che identifichiamo le problematiche troviamo raccogliamo delle idee supportiamo lo sviluppo di queste idee l'investimento è quello che permette a queste idee di poi essere indipendenti economicamente sostenibili economicamente sul mercato quindi abbiamo un fondo di investimenti di impatto che permette di portare queste soluzioni al mercato e in particolare ce n'è una che si chiama Good Sam per la quale siamo particolarmente fieri perché Good Sam inizialmente era un'idea sviluppata da dei ragazzi molto giovani forse più giovani di voi era un'app che aveva l'obiettivo di mettere in contatto pazienti affetti da problemi cardiaci con volontari che sapessero come utilizzare i defibrillatori e come fornire un primo soccorso quindi abbiamo scommesso su quest'app abbiamo supportato lo sviluppo di quest'app che inizialmente era solo un'idea e abbiamo supportato anche il test di quest'app sostanzialmente cosa fa l'app quando il paziente la persona sa che sta per avere un attacco cardiaco preme un pulsante nell'app e il volontario più vicino o i volontari più vicini alla persona ricevono un segnale lo stesso segnale viene ricevuto anche dall'ambulanza il volontario si reca al defibrillatore più vicino e che sono tutti geolocalizzati e poi va dal paziente a cercare di salvarlo a fornire questo primo soccorso abbiamo testato l'app abbiamo visto che il volontario arrivava in media in un minuto e mezzo e l'ambulanza arriva in sette minuti in media in una città come Londra quindi quei cinque minuti e mezzo di differenza sono essenziali per la sopravvivenza del paziente una volta che abbiamo verificato attraverso le sperimentazioni che l'app funzionava abbiamo poi investito nel nel processo di scalabilità di quest'app che adesso funziona in circa quattro paesi compresa l'Australia Singapore l'Inghilterra e l'America quindi questo è un esempio del modo in cui lavoriamo come dicevo da un anno e qualche mese siamo in Italia siamo in Italia perché come sapete in Inghilterra ovviamente da quando siamo diventati indipendenzi dal governo abbiamo lavorato molto sull'internazionalizzazione del nostro lavoro perché riteniamo che quello che abbiamo appreso negli ultimi vent'anni possa effettivamente avere un impatto non solo in Inghilterra ma nella maggior parte al livello internazionale e quindi con un avvenimento come Brexit abbiamo rischiato che non avessimo più quell'opportunità di lavorare a livello internazionale non solo di replicare quello che avevamo fatto ma anche di imparare da ecosistemi di innovazione diversi da quell'inglese e quindi abbiamo deciso di aprire una sede europea abbiamo scelto Torino e qui a Torino abbiamo una partnership con la compagnia di San Paolo abbiamo scelto l'Italia perché rappresenta un ecosistema diverso da quell'inglese ma comunque un ecosistema estremamente interessante perché per quanto riguarda l'innovazione sociale abbiamo visto che c'è un movimento enorme di innovazioni sociali che vengono dal basso che vengono sviluppate da soggetti in maniera totalmente indipendente come risposta allo sviluppo di soluzioni a problematiche sociali che purtroppo accomunano la maggior parte dei paesi europei sto per concludere brevemente quello che facciamo in Italia similmente a quello che fa Nesta ci occupiamo di arte e cultura di istruzione di sanità e ci occupiamo anche di tecnologie emergenti in arte e cultura tra inizi e fine estate lanceremo un fondo che erogherà prestiti a organizzazioni culturali e artistiche che propongono dei progetti che hanno un impatto sociale attraverso l'utilizzo e la rivalutazione del patrimonio artistico e culturale e quindi l'obiettivo di questi prestiti è proprio quello di puntare sulla sostenibilità economica di queste organizzazioni artistiche e culturali che molto spesso fanno fatica a sviluppare delle competenze manageriali in istruzione invece a marzo lanceremo un report ovviamente il problema principale che c'è in questo momento è che i sistemi di istruzione tradizionali probabilmente non sono equipaggiati per formare o insegnare le competenze digitali che saranno richieste dalla forza lavoro del futuro e questo è un po' un problema diffuso una serie di organizzazioni come noi si occupano proprio di questo e stiamo lavorando proprio con la fondazione per la scuola e con Nesta Londra su un report che raccoglierà una serie di casi studio internazionali di tecnologie e metodi innovativi che hanno funzionato nelle classi per migliorare l'apprendimento e l'apprendimento degli studenti e lo sviluppo di queste competenze digitali per poi far partire delle sperimentazioni più pratiche all'interno delle classi all'interno dei classi per quanto riguarda invece la salute e l'invecchiamento della popolazione abbiamo notato che c'è un trend che è quello della salute collaborativa che in Inghilterra definiamo people powered health quello che sta accadendo è che grazie alle tecnologie alle tecnologie digitali alle app il paziente riesce in qualche modo ad essere anche più indipendente e più responsabile della propria situazione sanitaria e ci sono appunto delle organizzazioni dei progetti che vanno proprio a puntare sul sul fornire un supporto ai pazienti ai gruppi di pazienti agli operatori sanitari che in qualche modo vada ad alleggerire anche il servizio sanitario tradizionale che chiaramente è impattato da una popolazione sempre più anziana e da alcune problematiche che comunque sono sempre più durature e quindi abbiamo pubblicato un report che a ottobre 2018 di quest'anno che ha raccolto 30 casi studio di progetti che possono essere definiti come salute collaborativa qui in Italia e dalla primavera faremo partire delle sperimentazioni negli ospedali concludo con la parte di tecnologia chiaramente seguiamo i trend delle tecnologie emergenti perché occupandoci di innovazione sociale non possiamo ignorare il ruolo della tecnologia che è sempre più importante ma per noi è anche importante in qualche modo utilizzare la tecnologia a benessere dei singoli e quindi abbiamo lanciato un progetto sulle applicazioni di artificial intelligence che hanno un impatto sociale nelle aree di arte e cultura città ed istruzione e abbiamo premiato una serie di progetti interessanti che avranno la possibilità di presentare quello che stanno facendo durante la digital week di Milano a marzo ma faremo partire anche con loro delle sperimentazioni nelle città e infine ci occupiamo stiamo seguendo anche il dibattito della tecnologia blockchain che è una tecnologia abbastanza dibattuta di nuovo non pensiamo che sia una tecnologia che possa risolvere tutti i problemi che abbiamo però è comunque una tecnologia che può apportare trasparenza sicurezza ed efficienza nella pubblica amministrazione e nelle erogazioni di servizi pubblici ed è proprio per questo che domani proprio qui a Torino con la Commissione Europea faremo un'academy per fornire un supporto a dei soggetti che stanno sviluppando delle soluzioni blockchain che abbiano un impatto positivo sulla società anche in preparazione alla partecipazione ad un premio della Commissione Europea di 5 milioni di euro proprio su queste tematiche mi fermo qui e aspetto le domande del pubblico grazie 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 a Marco Zapalocco responsabile di Nesta io avrei subito una domanda per lui se me lo concedete se mi lasciate fare questa domanda ho capito che fate molte cose tutte interessanti non mi è chiarissimo il meccanismo con cui tutto ciò avviene in altre parole ne parlavamo un attimo fa con stando attenti però a quello che dicevo ne parlavamo un attimo fa con il professor Garattini il progetto Toyota per esempio è finanziato da Toyota suppongo interamente voi mettete a disposizione delle competenze cioè date degli strumenti poi altri progetti che ho sentito molto interessanti compresi quelli di questo mutuo soccorso dell'aging no? lì avete un'azione promozionale del processo e lo fate anche investendo per esempio in app che possono servire a quello scopo quindi c'è anche una parte in cui Nesta interviene come finanziatore come esatto il modo in cui lavoriamo è duplice da un lato almeno in Inghilterra perché abbiamo un fondo in Inghilterra che è regolato da questa charity commission che ci impone di utilizzare i nostri i nostri i nostri soldi solo in Inghilterra e quindi ci sono delle aree che vengono considerate strategiche di importanza strategica nelle quali investiamo alcuni dei nostri soldi ma poi siamo anche dei consulenti degli esperti per soggetti che vogliono lavorare con noi per apprendere e utilizzare i nostri metodi quindi c'è un meccanismo anche in cui voi mettete come dire del capitale di rischio ma nello stesso tempo ci sono delle attività nelle quali voi ricostituite il vostro capitale attraverso un recupero di denaro da persone aziende a cui date consulenze ricostituiamo relativamente perché comunque essendo no profit si è chiaro che se c'è un guadagno si reinveste no profit ovviamente la regola è quella ci può essere un profit ma non può essere un profit distribuito deve essere reinvestito immediatamente nell'attività della ONLUS stessa chiarissimo adesso ho risolto anche questi ultimi dubbi possiamo passare alle domande io darei la precedenza visto che siamo a casa del Politecnico al Politecnico allora sentiamo Emanuele Musso applauso del Politecnico intanto può darsi che ci siano anche dei messaggi Instagram naturalmente li seguiamo prego buongiorno avevo una domanda per il professor Garattini sì parlando da studente di questo Ateneo quindi non direttamente coinvolto nel settore sanitario medico sanitario riconosco che talvolta non sia semplice districarsi nel mondo dell'industria farmaceutica dei farmaci basti pensare a tutte le pubblicità le campagne di marketing di integratori a cui siamo costantemente soggetti uno strumento che noi studenti abbiamo che stiamo acquisendo noi studenti è proprio una sorta di senso critico che noi acquisiamo grazie all'istruzione l'istruzione superiore ci sono molti ragazzi qui in sala o anche l'istruzione universitaria ad esempio il mio professore di latino l'ultima settimana del liceo mi disse l'importanza del liceo uno dei grandi insegnamenti che deve dare il liceo è far maturare uno spirito critico nello studente volevo chiedere appunto quanto è importante avere una visione critica quando ci si affaccia a questo settore e poi quali sono gli altri accorgimenti che noi giovani possiamo adottare certamente è molto importante avere senso critico però bisogna anche che questo senso critico si eserciti su delle conoscenze la scuola italiana purtroppo è una scuola di origine crociana e gentiliana in cui la cultura è fatta essenzialmente di tipo letterario filosofico artistico o giuridico la scienza non è ammessa nella cultura italiana e nell'educazione scolastica perché anche la presenza di materie che vengono considerate comunque di livello molto basso c'è biologia c'è fisica eccetera però è un insegnamento di contenuti non è un insegnamento che riguardi la metodologia scientifica e quindi la critica si esercita ma sulla base di opinioni non avendo a disposizione i fatti su cui esercitare la propria critica vi do un esempio il problema delle vaccinazioni che ha diviso l'Italia è un problema in cui è giusto esercitare una critica ma la critica si esercita dicendo cosa possiamo fare per migliorare la possibilità che tutti siano vaccinati perché la conoscenza se ce l'hai ti dice che questo è uno strumento straordinario per evitare milioni di malattie e che questo strumento ha debellato moltissime malattie che prima c'erano oggi non ci sono più quindi io credo che la scuola italiana debba decidersi a fare un passo fondamentale noi abbiamo fallito nel chiederlo ma spero che voi siate più efficaci di noi bisogna che ci sia una grande riforma della scuola e che la scuola divenga una scuola in cui la scienza ha il suo cosa vuol dire la scienza la scienza vuol dire capire la metodologia vuol dire avere dei concetti molto chiari tutti credono di poter dire qual è il rapporto fra causa ed effetto ma in realtà stabilire un rapporto di causa ed effetto è una cosa molto difficile non è che lo stabilisco sulla base delle mie idee lo devo stabilire sulla base di fatti concreti vi do un esempio poi finisco ma non so se voi vi ricordate che c'è stato un anno forse voi eravate troppo giovani ma comunque c'è stato un anno in cui il mare adriatico non era più balneabile perché c'erano tutte le alghe che si dissolvevano c'era il un mare lattescente va bene e subito il rapporto di causa ed effetto è stato beh certamente è il po che entra sappiamo che butta dentro un gran numero di porcherie sono queste porcherie che stanno che fanno lisare queste alghe quindi è questo che succede e allora tutti studiavano andavano a guardare è il potassio no sono i fosfati no questo e quest'altro eccetera e quindi tutti erano convinti bisogna fare qualcosa poi all'estremo bisogna pulire il po bisogna eccetera l'anno dopo non c'era più niente non c'è stato più questo fenomeno ma il po ha continuato probabilmente a portare un po' più porcherie di quante non ne portasse prima forse questo è un esempio di come tutti coloro che avevano invocato qualsiasi cosa si erano sbagliati perché in realtà non c'era nessun rapporto di causa ed effetto fra l'inquinamento e il problema ecco oggi la nostra società è attrezzata per fare scelte quando avvengono questi problemi certamente no perché in Parlamento si discute delle vaccinazioni cioè qui si dice 10 vaccinazioni obbligatorie in Francia ce ne sono 11 obbligatorie avete mai sentito che il Parlamento europeo si occupi di vaccinazioni il Parlamento francese per esempio ho mai sentito avete mai sentito che i partiti francesi ce ne siano di quelli che dicono vaccinazioni sì e quelli che dicono vaccinazioni no ma non esiste questo è un problema tipicamente italiano è un problema che ha come base non è la sola base naturalmente ma certamente ha come base l'ignoranza di tipo scientifico questa è una cosa che noi dobbiamo cambiare se vogliamo che in una società che diventa sempre più tecnologizzata i nostri figli i vostri figli abbiano la possibilità di fare giudizi perché lo dico sempre quando parlo degli studenti se vaccinarsi o no non lo potete chiedere al latino non lo potete chiedere al greco non lo potete chiedere alla filosofia non lo potete chiedere all'arte lo dovete chiedere alla scienza grazie grazie tra l'altro questa il professor Garattini ha ricordato che noi abbiamo una cultura letteraria filosofica giuridica ha detto anche la parola cultura giuridica e la cultura scientifica dovrebbe o stare fuori dei tribunali del tutto oppure se ci entra essere anche cultura scientifica perché ho portato qui un libro che abbiamo messo nella bibliografia che è la scienza in tribunale abbiamo avuto delle sentenze in Italia di magistrati sicuramente molto preparati sul piano giuridico sicuramente molto colti ottimi magistrati che però si sono messi a legiferare in tema di OGM di vaccini la cura di Bella se il terremoto era prevedibile o non era prevedibile ecco tutta questa cosa è strana vista dall'estero perché non si capisce da fuori d'Italia perché succedono queste cose nel nostro paese ecco questo credo che sottotraccia anche ci abbia detto il professor Garattini un attimo fa domande Instagram ci sono? c'è qualcosa? sì allora abbiamo qualche domanda sia per Nesta Italia sia per Sideri sì allora aspetti che le prendo allora ci chiedono innanzitutto quali sono per lei le aziende in Italia che più investono stanno investendo sull'innovazione e poi ci chiedono un piccolo vademecum da lei quotidianamente utilizzato per riconoscere le fake news allora investimenti in innovazioni diciamo sono dati pubblici esistono società ma sono le grandi società le poche grandi società che sono rimaste in Italia invece sono moltissime in occupazione penso soltanto a Leonardo la ex fin meccanica è una società che investe una percentuale molto significativa del proprio fatturato in ricerca e sviluppo e quindi può essere anche da questo punto di vista interessante come prospettive di lavoro stanno nascendo uscendo dal perimetro delle aziende delle realtà molto interessanti che tentano di importare un po' il metodo tedesco del trasferimento tecnologico penso soltanto all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova che è stata un'esperienza molto bella molto interessante che poi ha subito anche degli attacchi politici a mio parere del tutto ingiustificati abbiamo venuto qui tra i relatori cingolani infatti Roberto cingolani è una persona uno scienziato molto in gamba persona anche dal punto di vista umano eccezionale e devo dire quella è una partita che l'Italia dovrebbe giocarsi con maggior attenzione perché al di là delle aziende possiamo creare dei centri di ricerca che chiaramente non partono da grandi capitali privati ma possono creare sul serio una nuova piattaforma scientifica penso anche allo Human Technopole di Milano insomma se ne parla da anni sarebbe importante dare una spinta definitiva insomma per creare queste piattaforme dove apprendere sul tema delle fake news scientifiche diciamo il tema è delicatissimo ho già fatto l'esempio prima della chiaramente una provocazione della fake news di Aristotele il vuoto non esiste per dire che le fake news scientifiche sono sempre esistite peraltro non sono una peculiarità italiana ma attenzione perché esistono anche in altri paesi ma in altri paesi normalmente hanno un carattere economico faccio un esempio che conoscete tutti quanti Trump nega il riscaldamento globale è chiaramente una fake news scientifica però attenzione perché Trump ne fa diciamo uno strumento politico economico non a caso poi subito dopo la sua elezione Trump ha fatto uscire gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi quindi evidentemente quella non la considero neanche una fake news scientifica quella è una strategia politica chiaramente sbagliata ma è una strategia politica il tema vero italiano è che le fake news scientifiche non hanno nessun vincitore cioè il dibattito sui vaccini non porta nessun tipo di vantaggio è incredibile è soltanto ignoranza bisogna essere brutali in questi casi non si può neanche pensare a un retropensiero in cui comunque si creano dei vantaggi come per esempio nel caso di Trump il vicepresidente degli Stati Uniti Pence ha detto un annetto fa ma chi l'ha detto che il fumo delle sigarette fa male ha rimesso in discussione addirittura questa cosa allora è chiaro che ha fatto un piacere alle compagnie che producono tabacco insomma mentre per esempio il dibattito sui vaccini sono giusti o sbagliati non ha nessun vincitore non c'è neanche un vantaggio economico anzi probabilmente si creano degli svantaggi anche economici quindi credo che la peculiarità italiana sia più che la fake news proprio diciamo questo scuantismo scientifico che ci portiamo nei secoli ci sono tante ragioni qui è impossibile analizzarli tutti 1633 processo a Galileo Galilei però senza andare così lontano diciamo il professore qui ha citato una cosa che a me sta molto a cuore la riforma di Croce Gentile purtroppo ha lasciato un'eredità spaventosa non so avete mai letto la riforma di Croce Gentile nella riforma c'è scritto le materie umanistiche servono per andare all'università le materie tecnico-scientifiche servono per lavorare e purtroppo questo è il retropensiero che ancora rimane a molti ragazzi che io rispetto ma che fanno il liceo classico pensano di essere diciamo in una situazione una serie A laddove l'altra è la serie B guardate sono tutte due serie A mi dispiace rientrare in questo dibattito sono tutte due serie A e probabilmente chi unisce al percorso umanistico il percorso scientifico sarà più attrezzato per il futuro questo è importante dirlo perché io non voglio assolutamente dire che filosofia percorsi umanistici non siano rilevanti anzi i filosofi sono più che mai necessari oggi qui è intervenuto Luciano Floridi un mio caro amico ed è una delle menti che ci aiuta a comprendere il futuro detto ciò accanto dobbiamo ricordarci che andiamo verso un mondo in cui la tecnologia sarà sempre più rilevante le famose materie STEM daranno una marcia in più per acquisire il posto di lavoro allora senza voler essere prosaici comunque consideriamo che nel momento in cui la società sta cambiando il mercato del lavoro sta cambiando questo nostro lavoro italiano potrebbe essere un punto di debolezza grazie ce n'è ancora una allora ce n'è ancora un paio per Zappalorto ci chiedono quali sono i profili professionali che lavorano principalmente in Nesta Italia e quali sono le tecnologie che voi usate per studiare i problemi della comunità c'è qualcuno che vuole lavorare da voi a quanto pare mi allaccio a quello che ha appena detto Massimo non abbiamo dei non abbiamo dei profili non richiediamo dei profili specifici principalmente i ruoli che ci sono all'interno di Nesta Italia sono o da ricercatore o da project manager e in questi due ambiti non non richiediamo delle competenze specifiche o dei background accademici specifici ma è importante l'esperienza lavorativa pregressa ci rendiamo anche conto che è difficile trovare delle persone che hanno esperienza in innovazione sociale ma è importante che le persone che vengono a lavorare per noi siano interessate siano curiose e siano anche in qualche modo creative perché è molto importante anche l'aspetto creativo io personalmente ho una laurea in comunismo e adesso presa presso l'Hondo School of Economics e adesso mi occupo principalmente di tecnologia e di innovazione e nel mio team abbiamo giuristi abbiamo geografi abbiamo ingegneri gestionali del Politecnico di Torino e abbiamo anche persone che si sono occupate per tutta la loro carriera di comunicazione nel mondo musicale diciamo che traiamo anche molto vantaggio dal mix di profili diversi so che abbiamo ancora tre domande perché abbiamo tre rappresentanti di questo liceo di Carmagnola vi potrei chiedere di farle brevissime di farle tutte di seguito così poi diamo una risposta collettiva a tutte e tre e utilizziamo al meglio i 5-6 minuti che ci rimangono chi comincia? Buonasera io vorrei riprendere se possibile il discorso precedente che faceva Garattini appunto sull'ignoranza forse a livello scientifico che vi è in Italia in questo momento tra gli studenti e vorrei rivolgere la domanda al dottor Zappalorto per chiedere secondo lui quanto una maggiore educazione e informazione della popolazione in ambito farmaceutico possa essere utile nell'innovazione sociale e la rivolgo nel contempo anche al professor Garattini beh rispondiamo subito allora perché forse la risposta può non essere troppo lunga rispondiamo subito sia come se il problema sociale che ci troviamo ad affrontare richiede una competenza in in quel campo farmaceutico sicuramente è importante ma non è necessario diciamo se ho capito bene la domanda lo vuoi ripetere professor Garattini prima ci ha spiegato molto bene che cos'è il metodo del doppio cieco per accertare la validità di una molecola eccolo questa questa consapevolezza mi pare sia quella che soprattutto manca sì manca certamente questa consapevolezza ma cioè bisogna eliminare tutti i fattori confondenti che possono influenzare il giudizio che alla fine si dà per esempio non so se l'avete colto ma anche chi giudica se esiste o no un infarto come punto finale deve non sapere chi ha preso il farmaco e chi non l'ha preso perché altrimenti rischia di divenire psicologicamente influenzato però per rispondere sinteticamente alla sua domanda oggi noi viviamo in un sistema in cui l'informazione ai pazienti al pubblico ma soprattutto anche ai medici che sono poi quelli che fanno le prescrizioni è fatto soltanto dall'industria farmaceutica è un'informazione asimmetrica manca l'informazione indipendente che è un'informazione che dovrebbe fare lo Stato attraverso i suoi sistemi e che non fa e questo naturalmente crea una grande distorsione alla fine nella comprensione di ciò che serve di ciò che non serve eccetera perché siamo vittime di tutta la pubblicità basta guardare la pubblicità veramente ingannevole della nostra televisione per avere un'idea di quanto siamo lontani dall'avere ciò che serve per dare un giudizio posso segnalare un libro di Marco Bobbio è proprio un libro che spiega come il 90 più per cento dell'aggiornamento professionale dei medici passa attraverso gli informatori farmaceutici che sono quindi sostanzialmente dei rappresentanti delle case farmaceutiche e intorno a tutto questo poi è nato anche un movimento di medici indipendenti che no grazie pago io cioè non mi paghi tu il convegno ci vengo perché mi interessa ma me lo pago e questo secondo me è stato anche un momento molto interessante passiamo subito alle altre domande però lasciatemi soltanto dire che qualcuno di voi ma magari non è qui dopo aver ascoltato la mia chiacchierata su che cos'è la creatività e come si può imparare a essere creativi mi ha chiesto una bibliografia in merito io ce l'ho però non so più chi me l'ha chiesta quindi se voi conoscete questa persona o se è qui io sono pronto prego sentiamo un'altra domanda buonasera io volevo chiedere al professor Garattini in modo particolare cosa ci si può aspettare dalla scienza da quando l'operato umano nel campo farmaceutico si è unito e si sta continuamente unendo alle nuove tecnologie che stanno via via emergendo e in modo particolare volevo chiedere se questo nuovo accostamento andrà a creare un nuovo metodo per così dire standard per affrontare nuovi mali dunque provo a ripetere perché abbiamo sentito molto male tutti e due qua e quindi anch'io non sono affatto sicuro di aver capito bene dunque la domanda è se nuove tecnologie come ho capito l'intelligenza artificiale è stato detto ecco possono aiutare la progettazione di farmaci e se possono aiutare a limitare la sperimentazione animale corretto? anche sì certamente possono essere d'aiuto però ci vogliono alcune sono necessarie alcune premesse per esempio è necessario che parliamo tutti lo stesso linguaggio oggi in campo medico c'è una grande varietà ogni medico esprime per esempio che se io la bronchite in un modo con parole diverse con aggettivi diversi che non si sa se rispecchino o no delle reali differenze oppure no quindi se non c'è un avvio di quella che si può chiamare una semantica informatica cioè che tutti usiamo uguali termini per stabilire qualcosa che è uguale per tutti e quindi siamo in grado di rilevare dati che sono omogenei rischiamo di avere informazioni completamente sbagliate e quindi dobbiamo stare molto attenti l'intelligenza artificiale certamente ci può aiutare a evitare sperimentazioni di animali però bisogna vedere in quali condizioni e come lo potrà fare perché allo stato attuale certamente non vediamo questa possibilità mai dire mai quindi dobbiamo essere certamente sempre molto aperti ad accettare quello che ci viene di nuovo però deve essere dimostrato viviana morielli una domanda buonasera io avrei una domanda per il professor garattini sempre sappiamo che stanno emergendo nuovi approcci nella cura di varie malattie come per esempio la medicina personalizzata secondo lei la medicina andrà verso dei metodi universali per curare determinate malattie oppure ci si baserà sul DNA delle varie persone in modo da creare dei medicinali specifici per i singoli pazienti e poi ne avrei anche un'altra sappiamo che dal DNA si possono avere delle informazioni sulla predisposizione di una persona a varie malattie nel DNA è possibile conoscere anche la risposta che un paziente può avere ad un determinato farmaco e questa risposta può essere diversa in un corpo femminile o maschile oppure no domande che richiederebbero un'intera conferenza complimenti la medicina personalizzata voi la sentite come nuova ma l'idea della personalizzazione è vecchia quanto la medicina c'era già a Ippocrate soltanto che la medicina personalizzata ha diversi livelli a seconda di quello che conosciamo possiamo diventare sempre più vicini a personalizzare una terapia però non dobbiamo creare troppe illusioni perché ci sono ancora tante cose che dobbiamo fare prima di pensare a una terapia veramente personalizzata per esempio noi non sappiamo oggi dagli studi clinici randomizzati se le donne rispondono in modo diverso dagli uomini dei maschi lo conosciamo molto poco in generale si utilizzano per la sperimentazione maschi fra i 15 e i 50 anni perché sono in migliori condizioni fisiche quindi si spera di avere pochi effetti collaterali non si usano si sono sempre presenti in modo minoritario le donne i dati vengono messi tutti insieme invece che dividere mentre da molti studi sappiamo che le donne hanno risposte molto diverse sia qualitativamente sia quantitativamente anche perché la loro risposta a determinate patologie hanno meno infarti ma sono più gravi per esempio quindi diciamo che ci sono molte cose non dobbiamo creare illusioni eccessive speranze abbiamo detto vent'anni fa che le cellule staminali risolvevano tutto l'utilizzo attuale è ancora un utilizzo sono delle grandi potenzialità porci il problema della medicina personalizzata è il fine a cui dobbiamo arrivare però dobbiamo arrivarci non andando in cima alle cose prima di esserci arrivati in modo graduale quindi abbiamo questo abbiamo il problema lo dicevo prima di stabilire le dosi ottimali di stabilire i tempi ottimali di trattamento per esempio nel tumore della mammella proprio pochi giorni fa è uscito uno studio che dice che trattare un tumore della mammella che ha determinate caratteristiche con un certo farmaco per un anno è uguale a trattarlo come per nove settimane i risultati sono gli stessi questo ha grandi implicazioni perché diciamo c'è un problema di effetti tossici che sono molto maggiori in un anno di trattamento che non in nove settimane e per il servizio sanitario nazionale è un farmaco costa caro quindi ha grandi implicazioni il problema degli studi comparativi stabilire se un farmaco è meglio di un altro come si fa a fare una medicina personalizzata se non sappiamo se un farmaco è meglio di un altro o se è meglio di un altro in una determinata condizione cioè c'è tutta una serie di studi che bisogna fare l'obiettivo è quello certamente il DNA ci aiuta molto ma non dobbiamo diciamo io ripeto siccome vi ho detto che ho un lungo chilometraggio quindi ho vissuto tanti periodi in cui i problemi erano risolti quando è venuto la mappatura del DNA c'è stato un premio Nobel che ha detto possiamo chiudere tutti i laboratori di oncologia perché con questo risolviamo i problemi dei tumori l'anno scorso sono morte 177.000 persone in Italia di tumore quindi diciamo dobbiamo essere sempre molto cauti perché se esageriamo poi creiamo sfiducia ma dicevo certamente abbiamo un'arma in più per personalizzare però dobbiamo anche essere coscienti del fatto che esistono molti studi che indicano che anche se uno ha quella determinata mutazione ha quel determinato panel di mutazioni non è detto che sviluppi la malattia perché accanto alla genetica c'è l'epigenetica cioè c'è tutto l'ambiente che può modificare i nostri geni in modo tale da non subire i danni che potrebbero sviluppare questo è molto importante lo dico a voi giovani la prevenzione è una parola che ormai è ignorata in Italia ricordatevi che gli stili di vita sono quelli che vi permetteranno di avere una buona vecchiaia se arriverete alla vecchiaia non cominciate da adesso non fumate non eccedete nell'alcol fate esercizio fisico state attenti all'alimentazione non aumentate di peso dormite in modo adeguato tutte le notti fate esercizio fisico ma fate anche lo fate già esercizio intellettuale ma continuate a farlo anche dopo quindi i dati sono impressionanti se voi prendete una persona che ha buoni stili di vita rispetto a chi li ha tutti sbagliati e vi posso dire che c'è una differenza di mortalità del 20% quindi che non è una cosa mortalità assoluta non relativa che è un dato molto importante quindi diciamo che pensiamo alla personalizzazione ma pensiamo molto a noi e noi abbiamo il diritto alla salute ma abbiamo anche il dovere di mantenere la nostra salute perché se non manteniamo la nostra salute danneggiamo anche gli altri e qui ci sarebbe un lunghissimo discorso molto interessante da fare non abbiamo il tempo per farlo però c'è ancora una domanda Instagram speriamo di farlo veramente perché anche io avrei tantissime cose da domandare chiedono a Sideri se secondo lei la politica sta facendo attualmente o se potrebbe fare qualcosa di più pratico ed effettivo per quanto riguarda il passaggio dalla figura dell'inventore all'imprenditore quindi stimolare un po' questo passaggio allora questo è un tema in Italia molto dibattuto perché in generale sappiamo che il mondo accademico è sempre rimasto un po' distante dall'impresa sempre considerato il fatto di dialogare con le imprese come qualcosa che non andava perseguito la pubblicazione il premio il premio Nobel è sempre stato diciamo l'obiettivo dell'accademico italiano credo che le cose stiano cambiando anche grazie al fatto che molti scienziati italiani sono andati per un dato periodo negli Stati Uniti normalmente quello che accade è che quando tornano queste persone poi importano anche questa mentalità imprenditoriale sulla politica posso dire soltanto che più rimane distante dal mondo della scienza e meglio è la politica dovrebbe fare come ha fatto l'Inghilterra nel 97 ricordo bene cioè comprendere che c'è un settore da finanziare lo finanzia e poi fa un passo indietro era il tempo di Blair se non erro quindi avevano individuato in un momento importante che i temi legati ai processi innovativi potevano essere molto importanti dal punto di vista socio-economico hanno trovato i fondi anzi quale miglior utilizzo di fondi raccolti dalla lotteria sembra quasi il contrapasso dantesco da questo punto di vista però poi hanno fatto un passo indietro questa è la cosa da fare perché come ricordava il professore negli altri paesi non si discute di questi temi nei parlamenti cioè il dibattito non può avvenire tra lo scienziato e con tutto il rispetto parlando del ministro degli interni Salvini sui vaccini sì o no perché il ministro degli interni Salvini ma anche se fosse il ministro diciamo con le competenze adeguate dovrebbe seguire quella che è il risultato della scienza diciamo non possiamo entrare in opinioni politiche o legate alla pancia del paese o legate alla maggioranza va fatto quello che deve essere fatto quindi da questo punto di vista la scienza deve essere rispettata innanzitutto cosa che come emersa anche oggi non sempre avviene in Italia ma sui fa la maggioranza allora grazie io sono molto molto grato a Silvio Garattini che è stato qui con noi e speriamo di averlo ancora prossimamente per approfondire le cose che oggi non è stato possibile ampliare grazie a Massimo Sideri e a tutte le cose che ci ha detto sotto traccia perché quelle erano le cose da portare a casa e naturalmente grazie a Marco Zappalorto perché ci ha aperto un settore che non conoscevamo almeno io parlo per me un settore che non conoscevo un settore nuovo un settore in pieno sviluppo grazie un saluto a Piero Angela grazie Piero se ci hai seguito finora ti saluta anche Silvio Garattini ha detto ciao Piero ciao Piero ciao Piero grazie a tutti